Ciao a tutti, io sono Ilaria. Oggi vorrei proporvi un'attività che ho chiamato Copia la tua fantasia. Servono dei fogli, bianchi o colorati indifferente, tempere, colla, forbici, pennello, corde o spago. Io ho uno spago, del filo di lana, delle corde di una borsa di un regalo e delle stringhe di vecchie scarpe che mi hanno accompagnato in tutta strada. E poi un fiocco. Siete pronti a scoprire che cosa sta suggerendo la mia fantasia? 3, 2, 1... Siete pronti a scoprire. Siete pronti a scoprire. Siete pronti a scoprire. eccomi di nuovo qua guardate un po' la mia fantasia che cosa ho suggerito a me sembrano abitanti marini in fondo al mare ora tocca a voi a scoprire che cosa vi suggerisce la vostra fantasia buon divertimento